Ciao a tutti, oggi è qui con me Carlo, un nuovo collega entrato in Olivetti con il progetto del Master in Smart Product Design 4.0 che Olivetti sta facendo assieme al Politecnico di Torino. Lui è il nostro IoT Product Manager Junior. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Luigi, grazie. Allora, per conoscerti un pochino meglio, come abbiamo fatto con gli altri 12 colleghi entrati con questo bellissimo progetto, ti chiedo qual è il tuo percorso di studi e come sei arrivate in Olivetti? Io inizialmente ho fatto il liceo scientifico e durante appunto lo scientifico mi sono reso conto che forse non ero troppo incline per materia troppo scientifica e matematica, la fisica e quindi mi sono orientato più verso il product design e ho iniziato la triennale all'Università di Bologna in design dei prodotti e qui poi mi sono d'accordo che per fortuna ci avevo preso col percorso di studi e l'ho apprezzato molto. Mi sono formato soprattutto dal punto di vista creativo, abbiamo sempre fatto lavori in team, lavori molto orizzontali, non troppo verticali e quindi forse rispetto agli altri assunti sono un po' meno tecnico, un po' meno e poi con il tirocinio, mi sono reso conto che in effetti non solo ero incuriosito dal design in sé ma volevo anche un po' rientrodurmi nel mondo della tecnologia, non più dal lato scientifico del liceo ma dal lato creativo e qui ho trovato in effetti una grande opportunità nel master di Olivetti. Molto bello, tra l'altro un percorso interessante da come ce l'hai descritto perché effettivamente si vede che hai avuto un'evoluzione, l'hai anche riflettuto su cosa volevi fare, anche cercare di approfondire o cambiare punto di vista su quello che si fa, è molto interessante e bello anche l'approccio orizzontale, che dicevi quindi dei lavori che avete fatto, è stato abbastanza stimolante, credo davvero tanto. Hai già provato un pochino a dircelo e si evince anche da quello che ci hai raccontato, ma come mai hai scelto proprio il master in Smart Products Design 4.0 con Olivetti e con il Politecnico di Torino? Perché soprattutto durante l'ultimo anno dell'università, avendo fatto tirocinio e soprattutto poi la tesi, mi ero ricollegato all'IoT e sì insomma col tirocinio ho trovato questa start-up che mi ha dato l'opportunità di mettere assieme sia il design ma anche il punto di vista più ingegneristico, che di mio non avrei troppo apprezzato, ma sono riusciti diciamo a farmi scoprire un collegamento molto efficace con il design. Dal mio punto di vista personale, in cui magari vedevo il design come una soft skill non troppo impiantata nel mondo del lavoro, trovare questa opportunità di Olivetti mi ha dato l'opportunità appunto di collegarmi al mondo del lavoro vero e proprio, andando in un team di progetto non solo come designer ma anche come junior product manager. Interessantissimo il tuo approccio davvero Carlo perché intanto in Olivetti c'è tantissimo per quanto riguarda la storia del design e quindi da quel punto di vista troverai moltissimi spunti a un'azienda che giustamente è passata seguendo il filo rosso dell'innovazione, dalla meccanica all'elettronica, l'informatica e ovviamente oggi l'IoT, le soluzioni digitali, sempre dando una grandissima importanza sia al design di prodotto ma anche di processo e quindi andare verso cliente e mettere le persone al centro con il design thinking, quindi si può proprio dire così oggi. Ti faccio un'altra domanda invece legata proprio alle settimane, diciamo primo mese e mezzo so che state vivendo in azienda. Quali sono i vantaggi di vivere un percorso lavorativo a fianco di un tutor e allo stesso tempo formarsi invece con il Politecnico di Torino? Il parallelismo che c'è tra il Politecnico e Olivetti appunto, soprattutto dal punto di vista del product management e di una materia specifica che è gestione ciclovita del prodotto, che mi sono personalmente ritrovato molto in linea sia con il lavoro appunto che con il mio passato universitario e appunto sto ritrovando direttamente sul lavoro i topic, gli argomenti che stiamo studiando e quindi questo mi sta aiutando molto a trovare diciamo un campo concreto di applicazione per quello che studiamo. Aiuta molto il fatto di mettere assieme un'università del lavoro. Il bridge tra studio e lavoro così diretto è una grande ricchezza di questa proposta formativa e lavorativa. Io ti faccio ancora un'ultimissima domanda Carlo, questa è un pochino più emotiva, che è come sta andando proprio con l'ingresso in azienda, con gli altri colleghi se vuoi raccontarci qualcosa? Non stiamo facendo troppe riunioni dirette col tutor, ma ci ha già assegnato anche ad altre parti del team e quindi un po' stiamo iniziando ad entrare in altri meccanismi dell'azienda e questo mi fa parecchio piacere, ma spero appunto di riuscire ad entrare sempre più in profondità nell'azienda ed effettivamente mettere in campo quello che stiamo imparando. Molto bene, è un approccio positivissimo. Carlo, io ti faccio ancora un grandissimo in bocca al lupo per questo biennio molto importante, spero di vederti anche presto a Ivrea e buon lavoro. Grazie, grazie Luigi.